ciao beautiful friends buongiorno benvenuti e bentornati sul canale oggi nuovo video video delle aperture di uova di Pasqua della Kinder perché una fan mi ha richiesto delle aperture delle uova di Pasqua e l'ho accontentata quindi prima di iniziare il mio video vi invito a distribuirvi assolutamente il mio canale che stiamo commentando sempre di più commentate qui sotto se vi piace la tipologia di video e se volete vedere altre aperture delle uova di Pasqua lasciate un bel like e attivate la campanella così non vi perdete nessun video sul mio canale che usciranno quasi tutti i giorni perché visto che vabbè aspettate iniziamo il video ecco mi stavo dicendo che visto che non ho messo per quattro giorni nessun video cioè domenica cioè lunedì martedì mercoledì giovedì cioè giovedì oggi che oggi è blu quanto è oggi 7 agrile non ho messo nessun video fino ad oggi quindi ora voglio registrare questo video delle aperture delle uova di Pasqua e quindi ora iniziamo che è tardi sono le 3 meno 10 ok ora iniziamo eccomi allora voglio aprire questo che già lo avete visto sul canale questo nella rose comunque questo è i grammi 150 grammi di cioccolato kid buonissimo ecco faccio vedere come questo stavo dicendo che non ho dovuto fare un attimo la copertina per il video comunque questo sempre quello di Frozen quello che avete visto speriamo che esce la sorpresa che dico io ecco già abbiamo aperto l'uomo di Pasqua ecco qua ecco qua ecco qua come sempre c'è questo e c'è il numero di Pasqua la Kinder è sempre la Kinder andiamo oh è un po' spezzato allora vediamo è quella che dico io wow che bello allora è uscito l'arena e annum mi sembra questi due qua sono usciti ora li monto sembra che siano loro due allora voglio montare se riusciremo a montarle va benissimo un accello qui aspettate così la montiamo un momento eccolo qui forse è così aspettate un attimo allora vabbè non riesco a finire di montare questo ho fatto solo questo raga rieccomi dopo un po' di tempo perché sono stata un attimo impegnata e ancora dovevo finire di registrare questo video quindi infatti ora finiamo di registrare e sentiamo un po' di cioccolata la cioccolata la cioccolata è la più buona del mondo eh ve lo dico e lo stradico perché questo strato di qua è al lato e questo vabbè comunque è doppio strato cioè raga la cioccolata killer veramente sempre come si dice è sempre la più buona perché non lo so ho fatto anche questo vedete l'ho spaccata qua non è genere se era buono potevo fare il come si dice il dolce dell'interno perché si può fare anche il dolce dell'interno cosa posso dirvi non non lo so quindi ora spacchettiamo l'altro uovo ok provatemi a cadere tutto giù ora abbiamo questo dei di androise sempre da 150 grammi tanto ho fatto la copertina comunque così questi qua sono i levers giusto un po' da più di rischi questo è l'ultimo 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 il l'ultimo Sì, c'è sempre questo, ho l'interno. Qua dentro ci potete fare anche l'endorsia Allora abbiamo prima la sorpresina Ok Dovebbe essere questo Con regola E eccomi Comunque la sorpresa è questa Ora la montiamo Questa Aspettate Eccomi qua Allora Vi faccio vedere come funziona Che è Però non so questo Cosa serve Non lo so Perché far vedere qua Che si mette qua vicino Ah Capito Allora Allora Prima di tutto Assaggiamo un po' di cioccolata Ma mancante E' sempre buono Scusatemi L'ho messo qua gli occhiari Un attimo Ora Torno a mettere Ora Ora vediamo Come funziona Questo Gioco qua Perché l'ho riuscito a montare Aspettate E vi faccio vedere Rieccomi Allora Rieccomi Allora Rieccomi Allora Aspettate Aspettate Se funzionerebbe così Buu Aspettate Se funzionerebbe così Ui Aspettate Così Tenso un gioco che ne non mi piace c'è un gioco non ho pensato proprio che non mi piace per ne e come allora sto dicendo non mi piace proprio questo gioco perché molto cioè a parte che da maschi a parte per me è un gioco senza agio non lo so proprio però è così e cosa volevo dirvi non so quindi mi raccomando ora finisco qua insomma il video quindi mi raccomando iscrivetevi tantissimi perché siamo più di 442 iscritti poi commentate qui sotto se vi piace il video e se volete vedere altri video delle uova di Pasqua lasciate un bel like assolutamente e mi raccomando una cosa attivate la campanella così non vi perdete nessun nessun video quindi vabbè ma vabbè e cosa volevo dirvi niente quindi mi raccomando iscriviti assolutamente e mettetevi tanti like quindi un bacio e ci vediamo alla prossima video ciao